in questo tutorial vediamo l'esecuzione della spinte con manubri su panca declinata se hai a disposizione una panca declinata come quella che vedi cioè che ti permette di reclinare indietro lo schienale allora utilizza pure questa se non l'hai a disposizione come vedi abbiamo preparato ad esempio un disco un bumper che potresti mettere al di sotto della parte dove sta il sedile in modo da far sì che la schiena sia ovviamente declinata questo ti permetterà una maggior apertura della zona toracica per la spinta porta i manubri al lato del corpo i gomiti a circa 45 gradi con il corpo spingerai estendendo completamente il braccio farai convergere i manubri verso l'interno senza farli toccare tra di loro dopodiché in modo controllato apri nuovamente le braccia fino a raggiungere uno stretch pettorale corretto ma non eccessivo e segui quindi per il numero di ripetizioni prescritto quindi per il numero di ripetizioni prescritto è un po' di ripetizioni prescritto